Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andralink e benvenuti in questo nuovo spacchettamento molto molto veloce Dato che su Yu-Gi-Oh! sto portando davvero poco e niente per quanto riguarda spacchettamenti Ho girato un po' l'internet e ho trovato un duellante leggendari Stagione 2, quanto pare Ho deciso di comprarlo e fare uno spacchettamento veloce Ci sono 18 carte per pacchetto, sono due pacchetti E stavolta anche le sleeve 50 sleeve con ragazza maga nera e il mago nero Quindi direi che oggi siamo al top della forma Allora, questo lo apriamo qui sotto, perfetto Ah, ma c'è anche una carta promo, bene C'è anche un bellissimo dado Bello, con la scritta Yu-Gi-Oh! Allora, la carta... Uh, attenzione Macchina tombola, vai Ah, questa se hai il deck drago bianco, cosa che io ho ed è il mio deck principale O meglio, deck che uso giusto per avere un deck Allora questa potrebbe rivelarsi davvero una bella sorpresa Comunque, è molto carina La conserverò qui dentro, dato che non la userò mai Probabilmente Dunque, apriamo intanto questi due pacchetti Vediamo cosa ci sarà mai dentro In teoria dovrebbero esserci carte buonissime a ogni pacchetto di questi qui, specialmente Ho avvicinato al massimo proprio per avere la miglior visuale possibile Ala nera, tra l'altro le ala nera le abbiamo giocate proprio nell'altro episodio, quindi ci sta Cyber drago saiger Si dice sire? O sieger, non lo so, non conosco il tedesco Domatore ala nera Joe Sparviro di Ossidiana Figo Aha, ok Ala nera, pinachi da luna crescente Ok Mano fotonica Nice Attore dell'abisso, monna sua dente Ah Ala nera, ghast l'esplosione nera Drago bianco, occhi blu, super rara ragazzi Poi questo è uno degli art che meno mi piace del drago bianco, ma ce lo facciamo andare bene Sorelle Arpia, anche questa super rara Attenzione, la ultra rara, rosa ghiacciata Sì, effettivamente ci sono quelle carte rosa Queste, poi vabbè, ci sarebbe un uso particolare che si potrebbe farne, ma Campana rosa della rivelazione Angelo regina delle rose Scarica di colpi Fata rosa oscura Uccello delle rose Giardino nero Angelo caduto delle rose E riposo di piume dell'arpia Ora, le rose Ora, le rose non sono molto familiare, dato che, come ho detto più volte, mi sono perso Yu-Gi-Oh! per diversi anni Non male, sorelle Arpia, ultra Sorelle Arpia No, poi, ah no, sono tre ultra rare Eh sì, la differenza è che sorelle Arpia Ah, sì 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 No, in realtà sono tutte e tre No Oddio, in realtà sembra che siano tutte e tre ultra rare Anche se rosa ghiacciata si vede meglio Perché probabilmente avendo il nome dorato Avendo, sì, avendo la scritta dorata Si nota di più Però anche sorelle Arpia si sente che Eh sì, sono scavate proprio dentro Quindi dovrebbero essere tutte e tre ultra rare Comunque sia, le slivo subito Beh, direi che fanno la loro porca figura Tra l'altro, vabbè, non è che questo artwork del drago bianco non mi piace Però è quello che mi piace meno Perché quando un giorno alle medie lo portavo Ho portato un ragazzo di questi ragazzi Ho sbustato il drago bianco occhi blu E noi, eh sì, non è vero Ci facevo vedere sto cavolo di drago bianco occhi blu Con l'art diverso Io dico, boh, sarà vero, non sarà vero È italiano, deve essere per forza vero Alla fine, questo artwork l'ho visto talmente tante volte Che mi è venuto a noia E mi piace molto di più quello con la tavola dietro Con la stele Non lo so come la chiamate Però anche quello normale è molto molto bello Bene, secondo e ultimo pacchetto Zero galattico Questo più che altro sembrano quei pacchetti di rinforzo Per i deck che escono in quel periodo Ed è proprio questo, mi sa Maestà con gli occhi blu Sì, praticamente è quello È un deck, sono pacchetti di rinforzo Reliquiario del drago Oh ragazzi, questo vuol deck drago Balestra brillante Mausoleo del bianco E figuriamoci chi è il bianco Lady Arpia 1 La pietra bianca della leggenda Vaporizzatore fotonico Uuuuh E beh E beh Insomma Drago rosa nera Ah, rosa ghiacciata Ok, ce l'abbiamo già visto Uuuuh Uuuuh Drago spirito Occhi blu Ehi Attenzione No, no, no Ferma un attimo Allora Allora, allora, allora Beh Insomma, eh Insomma, guarda che riflesso bellissimo Ah Ah, che bello Ah, che goduria Bello, bello davvero Bellissimo Accidenti, questo pure Una bella sleivatina Non gliela toglie nessuno Uccello smeraldo Della luce lunare Strega Della rosa nera Fioritura Della rosa più scu... Uuuuh Ok Angelo Macchina magnifico Ma macchina Mi pare più Uno o quattro braccia E basta Cavaliere Della rosa del crepuscolo Lady Arpia Formazione fenice Molto importante Per le arpie E rosa della rinascita Ah Prima di perdere Tutte quante le carte Avevo Una decina di Lady Arpia Tutte diverse Anche la famosissima Ragazza Arpia Quella che Prima che venisse Censurata Tra l'altro In Italia c'era anche La versione non censurata Incredibile Ma vero Ma ragazzi Io sono più contento Parte per rosa nera Drago rosa nera Che ok Peccato per rosa Giacciata doppia Anche se usate Un certo deck Ma Il drago spirito Occhi blu E il drago rosa nera Nello stesso pacchetto Ok che qui Le probabilità Sono molto più alte Perché 18 carte E ce ne sono 3 Ultra rare Quindi Compri una ventina Di pacchetti Ti finisci tutto quanto Il set Sicuramente Le trovi sicuro Però ragazzi Davvero belle Davvero davvero belle Tra l'altro L'unico problema È che È una ristampa Quindi Alla fine Anche volessi rivenderlo 2 euro Verrebbe Quindi Nura di che Però sulla team Del 2016 Ecco Sulla team Del 2016 Già inizia anche A 3 4 euro Quindi Non male Invece Drago rosa nera 10 centesimi Se lo volete Ragazzi 20 centesimi È vostro Tranquillamente Ovviamente ragazzi Queste carte Sono facilissime Da trovare E Essendo ristampe Non valgono Neanche tanto Però Proprio Essendo più Sinceri possibile A me non me ne frega Che siano ristampe O O Meno Sono carte Che comunque Sia bellissime E che non ho mai Posseduto Tra l'altro Tranne il drago bianco Che il blu Che ce n'avevo 14 Hai anche risolari Le herpie Perché un giorno Comprai tipo 10 pacchetti Di predoni metallici L'unica volta Che riusci a comprare 10 pacchetti Di fila E Un bel cinquantello La cassa E via E trovai Di tutto A parte I tre Drago revolver Quindi Tre pacchetti Proprio inutili Fu una bella giornata Però ragazzi Tralasciando il drago bianco Tralasciando le sorelle E la rosa ghiacciata Che comunque sia Ci sta Drago rosa nera E il drago spirito Acchi blu Bellissimi Che valgano tanto Che valgano poco L'ho detto A me Il valore monetario Delle carte A me interessa pochissimo Viva il collezionismo Comunque Belle 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 Ragazzi Il video termina qui Ho detto che avrei portato Ogni tanto Questi spacchettamenti Più veloci Tanto per Quindi Quelli più cicciotti Arriveranno Con il venticinquesimo Anniversario di Pokémon Anche se Ho fatto una cazzata Con un ordine E L'espansione di Lance Mi arriverà A fine ottobre Comunque Mi rifarò in qualche modo Allora Ragazzi Vi ringrazio Per aver seguito Anche questo video Che spero vi sia piaciuto In descrizione Il link Per Instagram E se ancora Non siete iscritti Al canale Magari Iscrivetevi E noi Ci vediamo Ovviamente Al prossimo video Bye bye E Sì Grazie per la visione!